Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare chi ha organizzato questo incontro e tutti voi perché questo convegno va nella direzione della difesa dei diritti del popolo palestinale e delle persone palestinese. E questo è anche quello che prevede tutti gli accordi e tutte le risoluzioni delle nazioni unite e internazionali e abbastanza di persone palestinese. Sono sicuro. Sono sicuro che la Palestina sarà liberata dal fascismo che occupa la Palestina, come l'Italia è stata liberata dal nazismo e dal fascismo. Cari presenti, sono un palestinese senza titolo, ma porto avanti una causa. Sono venuto a vederli dalla terra occupata, la terra degli aranci tristi. Sono venuto da Gerusalemme, da capitale eterna della Palestina, nonostante tutto quello che fanno e vuole l'occupazione. sono venuto a voi per spiegare e dire e esporre la sofferenza tremenda dei prigionieri palestinesi dietro le spalle che con i loro cuori, i loro occhi aspirano e sogneranno la libertà. Sono venuto qui per rendere e dare uno spessore ancora più internazionale alla questione dei prigionieri palestinesi perché è una questione fondamentale nella lotta del popolo palestinese. non è una questione di soddisfare esigenze di vita quotidiana semplice, né questioni aggiorari e questioni sociali a rapporti con i familiari e altro che i prigionieri hanno bisogno, ma è una questione prima di tutto di dignità e di libertà. e la prigionia, i prigionieri sono il risultato dell'occupazione e se non ci fossi l'occupazione israeliana non ci sarebbero prigionieri. il prigioniero non è una persona singola ma rappresenta una patria, una identità di un popolo. il prigioniero è tutto il popolo palestinese, è prigioniero. il prigioniero è il prigioniero perché non può andare a visitare la terra della palestina. così il fratello Masri altrettanto perché tutti i prigionieri sono perché non possono andare liberamente a vivere e a visitare la propria terra. il fratello e l'amico Masri altrettanto. il bambino palestinese è il prigioniero perché non può arrivare in sicurezza, in pace e serenamente alla propria scuola. il contadino palestinese è il prigioniero perché non può coltivare in pace la propria terra. i nostri amici che ci appoggiano, che coloro che appoggiano la casa palestinese sono anche loro priori. perché non possono liberamente andare in palestina e esprimere la loro solidarietà aperta e chiara alla casa del popolo palestinese. e vorrei limitarmi a esporre un tipo di questa prigionieria e quella è la detenzione amministrativa. il mio discorso riguardante la detenzione amministrativa esprimerà la realtà di cose come sono sul terreno. ho vissuto tutti i tipi della prigionieria che Israele pratica. dall'interrogatorio stimuante alla detenzione preventiva, alla detenzione amministrativa, alla prigionieria vera, ho vissuto tutte queste esprimese. e devo dire con sincerità che la detenzione più difficile e più lavorante è la detenzione amministrativa. perché trasforma il prigioniero nella sua cella di isolamento da un essere umano a farlo diventare un numero che ha un inizio ma non si saprà mai quando finirà questo conto. la detenzione amministrativa affonda le sue radici nella legislazione britannica quando occupava la palestina già dal 1945, quindi prima della nascita in Israele. Israele ha esteso queste leggi britanniche al 1979 ha esteso e allargato queste leggi che legittimano e legiferano riguardanti la detenzione amministrativa. che viene applicato anche quando viene annunciato lo stato di emergenza dalla parte del kinese israeliano. la dichiarazione dello stato di emergenza vige in Israele dal momento che hanno creato lo stato di Israele dal 1948 vige lo stato di emergenza. qualunque situazione che non ha legittimità e legittimazione o non può essere legittimata vive sempre in uno stato di emergenza come vive Israele. Israele applica la legittimità di emergenza e la detenzione amministrativa già dall'ordine militare del governatore militare dei territori. già dal 1751 numero di legge dell'ordine del governatore militare del 1651. specialmente l'articolo 273. questo ordine militare da legittimità da possibilità alle forze israeliane di effettuare la detenzione administrativa per sei mesi. la detenzione amministrativa dura sei mesi rinnovabili fino a quattordici anni. basta il piccolo sospetto di qualunque cosa e senza nessun tipo di giustificazione che possa essere fornita per la detenzione, per l'arresto e può durare fino a quattordici anni e rimane l'accusa e la causa dell'arresto possono rimanere segrete e non vengono fornite neanche al detenuto. l'unica colpa del prigioniero del detenuto amministrativo che lui insiste sulla necessità di avere libertà e di vivere sulla propria terra. solo per questo motivo l'essere attaccato al diritto alla vita viene messo in arresto, diviene annientata la possibilità di vivere fino a quattordici anni. l'autorità di occupazione israeliana giustifica questa detenzione amministrativa a tre punti. il primo di queste leggi con la quale l'autorità militare israeliana di occupazione della Palestina con tre leggi giustificano questa detenzione. il primo di queste leggi con la quale l'autorità militare è messo dal governatore militare della zona che ti possono prelevare e buttare in carcere la seconda giustificazione che permette a loro di effettuare la detenzione amministrativa è la legge delle competenze. il secondo giorno dà possibilità e permesso all'autorità di occupazione israeliana di detenzione preventiva senza nessun tipo di giustificazione solo così arbitraria. tu sei antipatico a qualcuno dei soldati? ti sei antipatico a qualcuno dei soldati? tu sei antipatico a qualcuno dei soldati? lo che si a loro dimostituano sul diritto è infatti di qualifyingere i soldati. tu sei antipatico a qualcuno dei soldati? solo guardate il condivino di condivision amministrativa tu sei antipatico a qualcuno dei soldati? le condivisioni che fo多 di soldati? la prima volta del palestino per il numero certo ma dopo il palestino il palestino è un po' di assai ma non è un palestino ma non è un palestino qualunque forma di resistenza del popolo palestinese loro la considerano illegittima quando annosano una forma di resistenza di qualunque palestinese all'occupazione che possa essere militare o meno giustifica l'emissione di un ordine di cattura e ritenzione di questo palestinese il detenuto amministrativo vive una vita molto molto difficile prima la trascuratezza della cura delle cure mediche poi l'impedimento che possa ricevere visite dalla parte dei propri avvocati di tenere e impedire nessun tipo di visita da chi che sia che possa ricevere in cacere perché la visita richiede un permesso particolare che deve essere emesso dalle autorità di occupazione talune volte possano emettere dare un permesso di visita alla moglie ma senza il resto alla famiglia solo alla moglie e moltissime volte lo dando al figlio al bambino ma senza darlo alla mamma cioè alla moglie del detenuto e moltissime volte il permesso di la visita non viene mai emesso e sono forme di torture psicologiche e qui è il viaggio del tormento e della sofferenza per tante riguarda l'umiliazione continua e il come trascorrere anche il tempo l'adulata per arrivare al cacere dove il prisioniero è detenuto che normalmente basterebbe un'ora per arrivare al cacere il viaggio dura più di 12 ore lo fanno durare a chi vuole andare a visitare il detenuto perché per questo ringerli a rinunciare al viaggio chi vuole andare a visitare inizia il suo cammino il suo percorso per effettuare la visita inizia la mattina prestissimo e finisce fino a quasi mezzanotte e poi dopo aver effettuato il viaggio per tutte le sofferenze e implicazioni quando arriva dicono annullate la visita per motivi di sicurezza questo è per assoggettare il detenuto ai familiari al tormento psicologico e la distruzione psicologica questo comportamento delle autorità di occupazione israeliana ha portato i prigionieri ad effettuare continuamente alle stanze ritmate anche degli soperi che hanno prendono varie forme sopra della fame e uno di questi soperi il più difficile anche forse lo sopero della fame ma non effettuano lo sopero della fame perché desiderano la morte perché pretendono la vita e qualche volta è arrivato lo sopero della fame fino a 94 giorni continuati devo ribadire e ripetere che il prigioniero quando comincia ad effettuare lo sopero della fame che ha avuto tra le volte anche la durata di 94 giorni non lo comincia il prigioniero palestinese per la disperazione che vive come conseguenza della tutta che ha ricevuto anzi per dire di più all'occupante che io voglio la libertà e la vita non sono disperato né mi avete uscito la voglia di vivere con quale giustificazione si possa mai che dopo che un prigioniero abbia trascorso tutta la condanna che ha ricevuto 14 anni e ritornano ad arrestarlo per quale motivo già ha passato la condanna già ha trascorso il tempo previsto in carcere e poi di nuovo lo arrestano tutta la forma di detenzione amministrativa sì ma anche prima 14 anni era detenzione sì con la scusa di detenzione di detenzione amministrativa c'è un motivo di sicurezza ci sono due possibilità sono due forme di opposizione che il detenuto amministrativo palestinese ha per poter che attraverso le quali affronta risponde al comportamento israeliano uno è lo sciopero della fame e il secondo atto che viene effettuato dal detenuto è riflutare di andare in tribunale quando c'è la sentenza che è la sentenza in 15 quattro ha giocato a una attraverso il d'arri l'arri 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 quest'anno voler andare a partecipare davanti al tribunale israeliano perché dicono e considerano questa messa in scena della condanna stupida è falsa è falsa è falsa perché non ha nessuna legittimazione perché viene effettuata sotto l'occupazione domani domani il 15 di di aprile cioè domani inizierà anche lo sciopero della fame dei detenuti amministrativi per il sguardo e questo è un diritto domani inizieranno ad effettuare lo sciopero della fame perché anche perché rifiutano di non essere considerati come esseri umani ma di essere solo considerati come un numero oggi ci sono nelle carceri carceri israeliani 500 di tenuti amministrativi tra questi ci sono tre donne il consilio legislativo palestinese chalida e chadija e ci sono anche e ci sono tre bambini palestinese minorelli e ci sono leit abu kharma e chassi abu khalifa e sono tre bambini palestinese e chassi abu khalifa e chassi abu khalifa sono tre minorenni nei carceri amministrativi ma questo soccorso arresto amministrativo carcere amministrativo carcere amministrativo che giudicare nella detenzione amministrativa ci sono anche questi tre minorenni tre donne e tre minorenni Israele cerca di realizzare attraverso la detenzione amministrativa tre scopi il primo scopo che vuole realizzare della detenzione amministrativa è quello di raccogliere le massime informazioni possibili riguardanti il detenuto dopo che gli apparati di sicurezza hanno fallito nel voler far riconoscere al detenuto delle accuse che lo danno quando falliscono poi lo mandano alla detenzione amministrativa per poter metterlo in difficoltà moltificarlo consumarlo dentro psicologicamente per farlo dire delle cose che loro vorebbero sentire perché nella detenzione amministrativa uno vive in una situazione di nervosismo continua loro lo arrestano e cominciano l'interno quando falliscono nell'avere e sapere quello che vorrebbero allora lo mandano sei mesi nella detenzione amministrativa e qui cominciano con lui nella tortura psicologica e la sofferenza è tanta perché uno stando lì vive un trauma psicologico un nervosismo continuo perché non sa nulla quando cosa possa succedere della propria vita fino a quando possa rimanere in cacere non c'è una condanna non c'è un'accusa di nessun genere nessuno ridisce niente è stabile il secondo obiettivo che l'esercito dell'occupazione israeliana cerca di realizzare attraverso la detenzione amministrativa è quello di apportire di svuotare qualunque movimento popolare che possa sempre esprimersi con manifestazioni o altro contro l'occupazione italiana il numero delle detenzioni amministrative per mano dell'esercito è arrivato a 85.000 detenzioni amministrative nel 1988 sono stato il primo prigioniero amministrativo a essere buttato nel cacere del nabab nel sud della Palestina israele prego il numero 150 a quale il numero detenuto 150 durante la mia permanenza in quel maledetto carcere il direttore del carcere ha ucciso due detenuti palestinieri nel carcere uno uno era di Gaza uno era di Gaza e l'altro era della città di Genin il mondo amministrativo e questa c'era c'era immagine della uccisione di questi due non riesco mai a cancellarla dalla mia memoria perché l'hanno uscita davanti ai detenuti il terzo obiettivo vanno ad arrestare degli esponenti di alcune associazioni che sono attivi nel resistere all'occupazione o di qualche partito per impedire che questo partito o questa associazione possa attivarsi in delle attività che possono essere politiche o sociali che possono creare forma di resistenza all'occupazione della Palestina perché vanno per esempio ad arrestare i quadri o coloro che sono simpatizzanti con quel partito o con quella associazione che danno mano per organizzare degli eventi delle cose come forma di resistenza che si di l'intenzione amministrativa anche altri prigionieri. Prima di prendere il volo per venire in Italia, un altro fratello caduto martire nelle cacere israeliane si chiama Muhammad Anbar nel giorno 8 di aprile di questo mese. Il checkpoint si chiama, noi lo baptizziamo questo posto di blocco, come il posto di lumiliazione perché in quel posto di blocco cercano di esercitare tutte le forme di lumiliazione verso i polissimi. hanno aperto il fuoco su di lui, lì al posto di blocco, nonostante era sanguinante, l'hanno portato in carcere, l'hanno lasciato sanguinare ed è morto in carcere. Io non posso parlare delle giustificazioni che loro danno per queste norme, queste legislazioni che loro fanno per giustificare la decisione amministrativa perché non trovo nessuna decisione. ci sono più specialisti nella filologia del diritto che sono più capaci di me per poter analizzare e poter eventualmente trovare qualche giustificazione legittima per simili leggi. rispettando la presenza di questi esperti di diritto. Io vorrei ribadire qui che dal mio punto di vista la detenzione amministrativa non può mai trovare nessuna giustificazione ed è contro qualunque legge internazionale in qualunque ambito possa essere anche emessa. Io posso citare tre punti. Il detenuto amministrativo viene detenuto senza specificare né la sua condanna né la durata della sua detenzione. questo contro qualunque principio di legge oggi vedete sul piano internazionale. E viene detenuto senza una condanna e senza un'accusa chiara. il detenuto viene detenuto fuori dei confini del paese occupato dei confini dei territori dove lui deve abita e c'è la sua barbara. trasferimento. Sì, trasferimento in altro territorio. E alla fine potrei concludere il mio discorso dicendo non è arrivato il momento forse di far finire questa maledetta occupazione. il detenuto palestinese non avrebbe il diritto come tutti gli esseri umani di poter annusare il profumo della libertà e della vita? il popolo palestinese non avrebbe il diritto di realizzare il proprio sogno nel vedere il suo sogno realizzato quello di avere un proprio stato sulla propria terra il popolo palestinese non avrebbe il diritto di vedere un suo miliziano bambino potremmo alzare la bandiera della palestina sulle moschee e sulle chiese della palestina e sulle mure della palestina come diceva il nostro leader simbolo della palestina grazie a tutti! Vorrei concludere dicendo quello che diceva sempre il nostro poeta della Palestina, Mahmoud Darwish, su questa terra, sulla terra della Palestina esiste ciò che possa giustificare e dare senso alla vita, che merita, rende meritevole e gioioso il vivere, sicuramente la vittoria sarà il suo poeta. Grazie.